Bene, un altro frammento di De Chaumont in cui questa volta si anima l'inanimato. Cioè, Chaumont è stato uno dei, non il primo, ma uno dei primi a adottare la tecnica passo 1. Qualcosa si è visto già nel primo, ma in questo si vede proprio a quali livelli si è arrivato. Grazie. 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 Grazie.